bene signori qui è stefano teodori che vi parla da via cristoforo colombo numero 13 fossato di vico quello che sto inquadrando è una perdita di acqua che sta avvenendo sotto il parcheggio davanti antistante la mia casa questa perdita è stata segnalata più volte ad umbra acque ed è da circa un mese o anche più che sta andando avanti questa storia semplicemente sono venuti la prima volta quando è stata segnalata la prima perdita sono venuti semplicemente segnando con la p il punto dove pensavano che ci fosse questa perdita e se ne sono andati sono venuti altri giorni dopo hanno riparato la perdita ma non l'hanno riparata perché la perdita ancora sussiste due metri più in là ce n'era un'altra che semplicemente ecco che cado ce n'era un'altra che è ben più piccola ma che nel frattempo si è ingrandita nonostante che siano stati sollecitati telefonicamente più volte diciamo dietro anche decisa raccomandazione di intervenire il più presto possibile e nonostante tutto vedete la situazione è questa voi potete capire che cercare di fare la gincana intorno a questa perdita con le auto ogni volta non è molto gradevole tanto più che non so che cosa sia facendo l'acqua nel sottosuolo ma sicuramente c'è anche la possibilità che si possa aprire qualche buca e poi vedremo che cosa succede nel frattempo l'acqua viene persa abbondantemente come potete vedere perché se il flusso sembra poco nell'arco delle 24 ore vi garantisco che non è poco e vorrei ricordare signori di umbracque che ai cittadini viene richiesto di risparmiarla l'acqua di stare attenta agli sprechi mentre loro bene danno il bene se bel esempio sinceramente complimenti ho deciso di intervenire in questo modo tramite il social semplicemente perché tanto i numeri verdi non danno esito il numero verde comunque ve lo voglio far comunque vedere per correttezza eventualmente siate più fortunati di me e magari le vostre richieste possano avere un seguito ed eccolo il seguente io spero di non avervi annoiato niente grazie per la pazienza va bene se avete anche voi da segnalare dei guasti o delle diciamo dei problemi anche che conoscete bene io invito tutti a fare la stessa cosa perché è ora che noi cittadini cominciamo ad utilizzare questi mezzi che sono i mezzi dei social appunto anche per queste cose bene vogliono vogliono questo e otterranno questo grazie